Il mare Qualche giorno fa si potevano leggere sui giornali queste poche righe. Boulogne sur Mer, 22 gennaio, dal nostro corrispondente. Una grave disgrazia ha nuovamente colpito i nostri pescatori, già tanto presi di mira dalla cattiva sorte negli ultimi due anni, gettandoli nella più viva costernazione. Il battello da pesca di proprietà del quartier mastro Javel all'ingresso del porto è stato spinto in direzione ovest dal maltempo e si è fracassato contro le rocce che proteggono il molo. Nonostante il pronto intervento delle barche di salvataggio e le corde buttate con l'ausilio del fucile getta Ormeggi, i quattro uomini dell'equipaggio e il mozzo sono morti. Continuano i fortunali su tutta la costa e si temono altre sciagure. Chi sarà mai questo quartier mastro Javel? Forse il fratello del monco? Se quel disgraziato, travolto dalle ondate e morto probabilmente sotto i rottami del suo battello, è quello a cui penso, io avevo assistito, 18 anni or sono, a un'altra tragedia terribile e semplice, come tutte quelle del mare. Javel era allora capo d'una paranza. La paranza è l'imbarcazione da pesca per eccellenza, così solida da non temere il tempo, lo scafo rotondo, sballottato in continuazione dalle onde come un tappo, sempre a galla, sempre frustato da venti forti e salsi della manica, affronta il mare infaticabile con la vela gonfia, trascinando di sponda una gran rete che raschia il fondo dell'oceano e distacca raccogliendole tutte e distacca raccogliendole tutte le bestie addormentate sulle rocce, i pesci piatti incollati alla sabbia, i granchi massicci dalle zampie adunche, i gamberi dai baffi appuntiti. Quando la berezza è leggera e l'onda debole, il battello incomincia a pescare. La sua rete è fissata lungo un gran fusto di legno guarnito di ferro che si cala per mezzo di due grosse corde, scivolando su due rulli ai lati opposti dell'imbarcazione. Il battello, sospinto dai venti e dalla corrente, tira con sé questo apparecchio che devasta il fondo del mare. Javel aveva a bordo il fratello minore, quattro uomini e un mozzo. Era uscito da Bologna e col tempo buono per gettare la rete da pesca. Ora il vento si alzò ben presto e una burrasca sopraggiunta costrinse il battello da pesca a cambiare rotta. Raggiunse le coste d'Inghilterra, ma il mare mosso batteva contro le scogliere, irrompeva contro la terra, rendeva impossibile l'entrata nei porti. Il piccolo battello riprese il largo e tornò sulle coste della Francia. La tempesta continuò a rendere insormontabili le scogliere, avvolgendo di schiuma, di frastuono e di pericolo tutti gli approdi di rifugio. Il battello ripartì di nuovo in corsa sbandata sulla sommità dei flussi, scosso, grondante, sferzato da getti d'acqua, ma forte malgrado tutto, abituato a queste grosse tempeste che lo trattenevano spesso cinque o sei giorni, errando fra i due paesi vicini, senza poter approdare nell'uno o nell'altro. Infine l'uragano si calmò e dato che si trovava in alto mare, benché i cavalloni fossero forti, il padrone comandò di gettare la rete della pesca. Dunque, il grande argano fu portato in coperta e due uomini avanti e due dietro cominciarono a sfilare dai rulli gli ormeggi che lo reggevano. All'improvviso toccò il fondo, ma poiché un'alta ondata aveva inclinato il battello, Javel minore, che si trovava avanti e dirigeva la discesa della rete, vacillò. Il suo braccio si trovò stretto fra la corda tesa in un istante dalla scossa e il legno dove scivolava. Fece uno sforzo disperato cercando con l'altra mano di sollevare l'ormeggio, ma la rete si stava srotolando e il canopo teso non cedeva affatto. L'uomo, martoriato dal dolore, gridò. Accorsero tutti, il fratello lasciò persino il timone, si gettarono sulla corda cercando di liberare il braccio che veniva stritolato, ma in vano. «Bisogna tagliare», disse un marinaio ed estrasse dalla tasca un largo coltello che poteva, in due colpi, salvare il braccio di Javel minore. Ma tagliare voleva dire perdere l'apparecchio da pesca e questo valeva denaro, molto denaro, cinquecento franchi e apparteneva a Javel maggiore che teneva al suo patrimonio. Gridò con il cuore torturato «No, non tagliare! Vado incontro al vento» e corse al timone mettendo la barra sotto vento. Il battello obbedia malapena, paralizzato dalla rete che ne immobilizzava lo sforzo e trascinato poi dalla forza della corrente del vento. Javel minore si era lasciato cadere sui ginocchi con i denti serrati e gli occhi torbidi. Non diceva nulla. Il fratello tornò con la paura costante che il coltello di un marinaio tagliasse la corda. «Aspetta, non tagliare! Aspetta! Bisogna mollare l'ancora!» L'ancora fu mollata, fu sfilata tutta la catena, poi gli uomini si misero a virare l'argano per distendere le gomene dell'apparecchio da pesca. Finalmente le distesero e si liberò il braccio inerte sotto la manica insanguinata di lana. Javel minore sembrava diventato idiota. Gli tolcelo il camiciotto da marinaio e si vede una cosa orribile. Una pappa di carne da cui il sangue scaturiva fiotti che si sarebbero detti spinti da una pompa. Allora l'uomo guardò il suo braccio e mormorò «fottuto!» Dopo, poiché l'emorragia faceva scorrere il sangue fino a formare una gran pozza sul ponte del vascello, uno dei marinai gridò «Sta per vuotarsi! Bisogna allegare la vena!» Allora presero uno spago, una grossa cordicella scura incatramata e serrando il braccio al di sopra della ferita strinsero con tutte le loro forze. Il getto di sangue si arrestò a poco a poco e finì per cessare del tutto. Javel minore si alzò con il braccio che pendeva al suo fianco. Lo prese con l'altra mano, lo sollevò, lo girò, lo scosse. Era tutto rotto, spezzato. I muscoli soli trattenevano quel pezzo di carne attaccato al corpo. Egli lo considerava con lo sguardo cupo, riflettendo. Sedette su una vela spiegata e i compagni gli consigliarono di lavare subito la ferita per impedire la cancrena. Gli porsero un secchio vicino e da un minuto all'altro egli vi attingeva con un bicchiere e bagnava l'orribile piaga lasciandone colare di sotto un piccolo rivolo d'acqua chiara. «Starai meglio sotto coperta», gli disse il fratello. Egli discese ma dopo un po' risalì non avendo coraggio di restare solo. Sedette sulla vela di nuovo e ricominciò a bagnare leggermente il brazzo. La pesca era ottima, i larghi pesci dal ventre bianco giacevano accanto a lui scossi da spasimi di morte. Egli li guardava senza cessare di annaffiare la sua carne spezzata. Mentre stavano per avvicinarsi a Boulogne si alzò un nuovo colpo di vento e il piccolo battello ricominciò la corsa folle facendo rovesciare, alzare e scuotere l'inferice ferito. Scese la notte, il tempo fu cattivo fino all'alba. Al sorgere del sole si scorse di nuovo l'Inghilterra ma, poiché il mare era più calmo, ripartirono velezzando per la Francia. Verso sera il fratello Javel chiamò i compagni e mostrò loro delle trazze nere, una volgare apparenza di putrefazione sotto la parte del braccio distaccata da lui. I marinai guardarono e dettero il loro parere. Potrebbe ben essere la cancrena, pensò uno. «Ci vuole l'acqua assalata sopra», osservò un altro. Portarono dunque l'acqua assalata e la versarono sulla ferita. Egli divenne livido, strinse i denti, si agitò un poco ma non gridò. Poi, quando il bruciore divenne meno doloroso, «Dammi il tuo coltello», disse il fratello. Il fratello gli tese il coltello. «Tieni il braccio in aria, dritto e ben teso!» Fecero ciò che chiedeva. Allora cominciò a tagliare da sé. Tagliava con dolcezza, riflettendo e segando gli ultimi tendini con quella lama acuta come il filo d'un rasoio. E presto non rimase che un moncherino. Egli emise un profondo sospiro e dichiarò «Bisognava proprio farlo!» «Bisognava proprio farlo!» «Tanto era fottuto!» Appariva sollevato e respirava con forza. Ricominciò a versare l'acqua sul troncone di braccio che gli restava. La notte fu pessima e non potettero ancora prodare. Quando fu giorno Jevelle minore presse il braccio staccato e l'esaminò a lungo. La putrefazione cominciava. I compagni vollero osservarlo anche loro. Lo passarono di mano in mano, lo tastarono, lo rigirarono, lo fiutarono. Il fratello disse «Bisogna gettarlo in mare a quest'ora!» Ma Jevelle minore si rifiutò. «Ma no!» «No, non voglio!» «È mio, non è vero?» «Perché è il mio braccio!» Lo riprese e lo adagio fra le gambe. «Pure è in putrefazione!» disse il più grande. Allora il ferito ebbe un'idea. Per conservare il pesce quando si stava lungamente in mare si accattastava in barili di sale. Domandò «Non possiamo metterlo in salamoia?» «Già, è vero!» osservarono gli altri. Allora si vuotò uno dei barili già colmo di pesca degli ultimi giorni e in fondo deposero il braccio. Mi versarono sopra il sale poi rimisero a posto ad uno ad uno i pesci. Uno dei marinai azzardò questa facezia purché non si venda anche quello al mercato. Tutti risero meno che i due Javel. Il vento soffiava sempre. Navigarono ancora in vista di Bologna fino all'indomani alle dieci. Il ferito continuava senza posa a gettare l'acqua sulla piaga. Di tanto in tanto si alzava e camminava dall'estremità di tanto in tanto si alzava e camminava da un'estremità all'altra del battello. Suo fratello che teneva la barra lo seguiva con lo sguardo scuotendo il capo. Finalmente rientrarono in porto. Il medico esaminò la ferita e la dichiarò in via di guarigione. Compì una bendatura completa e ordinò il riposo. Ma Javel non voglia addormentarsi senza aver ripreso il suo braccio. e tornò ben presto al porto per ritrovare il barile che aveva contrassegnato con una croce. Lo vuotarono davanti a lui ed egli riprese il braccio ben conservato in salamoia grinzoso e freddo. Lo avvolse in un panno scelto per l'occasione e ritornò a casa. La moglie e il figlio esaminarono lungamente quel pezzo di carne palpandolo levando i pezzetti di sale rimasti sotto le unghie. Poi chiamarono il falegname per una piccola bara. L'indomani l'equipaggio completo del battello da pesca assistette all'inumazione del braccio staccato. I due fratelli uno accanto all'altro erano in lutto. Il sagrestano della parrocchia teneva il cadavere sotto il braccio. Javel minore smise di navigare. Ottenne un piccolo impiego nel porto e quando parlava più tardi della sua disgrazia confidava piano agli ascoltatori se mio fratello avesse voluto tagliare la corda avrei ancora il braccio sicuramente ma era un uomo che sapeva badare agli affari suoi. grazie a tutti.